Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Si segna la neve lungo tutto il percorso. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Massa e Versilia in direzione Rosignano. In A1 rallentamenti tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. Nevischio in A1 tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello e sulla variante di Valico e in FIPILI tra Firenze e San Mignato. In FIPILI code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Risagi per la neve e il ghiaccio a Firenze nelle zone provinciali e sulle colline. Si raccomanda massima attenzione. Aggiornamenti su treni e aerei sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info